Il viaggio più avventuroso dell'anno sta per cominciare 4 auto, 20 ragazzi, una città troppo stretta e silenziosa ed un tesoro Solo i più veloci, i più scalti, logici, preparati i più arguti nel risolvere gli inizi, nel trovarne altri nel recarsi da un luogo all'altro della città avranno la meglio sugli avversari Chi attuerrà il gioco di squadra e riuscirà a farsi baciare dalla fortuna potrà esultare per la vittoria Un indizio che porta ad un luogo e poi un altro indizio e ancora un altro luogo ma tanti colpi di scena prima del punto X la fine dell'avventura notturna di Fratta Maggiore Avrete la possibilità di portare con voi tutti gli strumenti a disposizione Auto, collettore cdmp3, penna, carta, fortici, cellulare che legge video, immagini con mms, bluetooth anche uno smartphone che si connetta a internet, se volete è la mia sfida personale per quest'anno Tanto importante è avere ingegno, voglia di divertirsi e tanta pazienza Non è una semplice caccia al tesoro è un viaggio, una storia di una notte in cui correre fino alle prime ore del mattino per la vostra città e il ricordo vi rimarrà a lungo Chi scoprirà per primo dove ho nascosto il tesoro? Buon divertimento!